Stiamo monitorando tutti i casi, devo dire, non abbiamo almeno ad oggi focolai, sono tutti i casi cui i contagi sono avvenuti o per contatto tramite gli ospedali e quindi nel caso dei sanitari questo è quasi certo, ma anche in altri casi che conosciamo. La cosa buona, la buona notizia è che nessuno di questi ad oggi è in condizioni gravissime, anzi sono tutte persone che hanno uno stato febbrile, febbre neanche tanto alta, però diciamo che non hanno per ora difficoltà, incrociamo le dita, difficoltà respiratorie o altre, in alcuni casi si tratta anche di asintomatici addirittura che non hanno nessun, non manifestano nessun sintomo, ma hanno fatto i tamponi perché lavoravano in ospedale e sono risultati positivi. Bisogna essere preoccupati, questo sì, perché questo ci aiuta anche a renderci conto di ciò che dobbiamo fare e quindi di restare a casa. La preoccupazione è una cosa buona, non però il panico. Come dicevo prima i casi sono destinati a aumentare perché io ho notizia che ad esempio qualcuno degli attuali positivi ha purtroppo, ahimè, episodi in famiglia, è normale che una persona possa contagiare il marito, la moglie, il figlio e quindi abbiamo notizie di persone che sono in isolamento, che hanno fatto i tamponi, è chiaro che una parte di questi tamponi sarà positiva. Io mi aspetto almeno un raddoppio se non addirittura tre volte il numero attuale. Due sindaci, notizia di poche ore fa, sono risultati positivi al Covid-19, i sindaci di Montefino e di Castiglione Messerremondo, se si sente ovviamente di mandare un saluto a questi due primi cittadini e poi la domanda è anche questa, i sindaci sono a contatto con i cittadini, sono in prima linea in questa emergenza, il sindaco Antonio Luciani ha paura, voglio dire come guarda questa emergenza perché voi sindaci avete davvero il polso della situazione. Intanto un forte abbraccio ai miei due colleghi, in Italia c'è stato anche qualche sindaco che ha perso la vita a causa del coronavirus e quindi come sempre siamo in prima linea, questo lo sappiamo bene. Paura no, non ce n'è, c'è senso di responsabilità, io sono tutti i giorni qui con lo staff presso il COC però usiamo tutte le accortezze, ora ovviamente per parlare con voi, mi sono levato la mascherina ma siamo dotati di mascherine, igienizziamo sempre le nostre mani con prodotti specifici ed evitiamo di avvicinarci anche nel nostro caso. Come ci siamo detti prima della trasmissione, io evito ogni possibilità, anche perché riporterei tutto questo nella mia famiglia e quindi anche io ho una famiglia da proteggere, quindi paura no, non bisogna averne, non bisogna scatenare il panico, però bisogna essere molto prudenti.